Siamo a Mantova, a Mantovanello dove si allena il Mantova, un paio di giorni dalla partita amichevole Mantova-Brescia con Michele Arcari. Michele Arcari che ha lasciato il Brescia un po' in silenzio, diciamo così, perché è la prima volta che parli con noi di Brescia in Gol e ti ringraziamo, ma che parli in generale perché dopo 17 anni consecutivi o 16 con una breve parentesi quando hai ritornato alla ProPatria, hai lasciato il Brescia e credo che sia un record, credo che nessuno tra giocatore e allenatore abbia fatto tutti quegli anni come hai fatto tu, con la V bianca sul petto, comunque con i colori bianco-azzori. Sì, un tempo veramente lungo che per me è volato perché sono stato benissimo a Brescia, sono tornato ad essere giocatore dopo aver finito, la mia storia calcistica era la ripartita dalla Serie D e sono arrivato a Brescia in silenzio e pian piano mi sono guadagnato, ho fatto 11 stagioni di fila da giocatore e più 6 da allenatore estero giovanile, qualche avventura in prima squadra e poi ho finito quest'anno a giugno dopo 17 stagioni. Arrivasti quasi come un portiere di complemento, si diceva che Arcari farà il secondo, facesti il secondo, anche il terzo a volte a Viviano, poi ti ritrovi primo nell'anno in cui il Brescia ottiene quella promozione tanto attesa nel 2009-2010, poi batti anche il record di imbattibilità che apparteneva al mitico Peruchetti, insomma qualcosina l'hai fatto, qualche soddisfazione te la sei tolta ancora mai? Sì, mentre mi le dici mi viene la pelle d'oca sinceramente perché ripercorre veramente questi anni e lo sto facendo adesso perché non ci ho voluto pensare, perché è veramente stata qualcosa di veramente emozionante. Sono venuto, mi ricordo la chiamata che mi fece Giacomo Violini che non finirò mai di ringraziare per quello che ha fatto per me, e mi disse vieni che mi serve un portiere che mi dia la mano, diciamo non prende la mano ma un tappabuche, cioè Viviano che è infortunato, agliardica, qualche problemino, mi serve un ragazzo come te che sta lì e nel bisogno c'è. E da lì è nato tutto quello che hai detto tu e che non mi sarei mai sognato di fare, invece ho fatto anche grazie ai miei compagni tra cui uno, Possanzini che è stato il mio capitano e di cui ho voluto che seguire le gesta qua a Mantua e niente, è finito dopo 17 anni questo rapporto, ma è sempre nel mio cuore il Brescia. Ecco, io ho citato due momenti, con la promozione, il record di imbattibilità, c'è però magari una partita, una parata più di altre che ti porti nel cuore di quello che hai fatto a Brescia? Beh, sicuramente la parata finale su Gas Barroni che dopo è finita la partita, insomma. La finale play-off col Toro. La finale play-off, è stata veramente una liberazione. giovani che avevamo da due play-off persi, il primo in semifinale, il secondo in finale, il terzo arriviamo che potevamo vincere il campionato a Padova, invece non ce la facciamo. Sembrava una maledizione questa Serie A e quando ho fatto quella parata lì, dopo 10 secondi finita la partita, mi esplosa dentro una gioia incredibile. Mi ricordo la corsa sotto la curva e poi non ho capito più niente per qualche minuto. Quella comunque è rimasta sicuramente dentro di me. Si può dire che il Brescia è stata la tua nazionale nella tua carriera? Ma sì, è stato il mio apice della mia carriera, sicuramente che è stata un po' all'inizio un po' travagliata, anche per, tra virgolette, colpe non mie. Ho vissuto anche un fallimento di una squadra come quella dell'Eco, mi sono ritrovato a, povero l'Eco anche adesso in questa estate ha avuto i suoi problemi, mi sono trovato il primo in agosto con la squadra che è saltata, non avevo più mercato, e sono ripartito dalla Serie D da pizzighettone e quindi a 26 anni mi sarei mai immaginato appunto di arrivare a ottenere quei risultati qua e di essere arrivato in Serie A. Partite banali non le hai giocate, compresa la tua ultima, perché la tua ultima partita ufficiale col Brescia è quel drammatico Brescia-Trapani di fronte a quasi 20.000 persone. Sì, effettivamente una partita dove ci giocavamo tutto, da dentro e fuori, mille emozioni anche in quella partita. Sospettavo che poteva essere l'ultima, ma alla fine dentro di me credevo ancora di giocare ancora, di andare avanti ancora, poi per mille motivi, d'accordo con la società, abbiamo trovato la formula comune di smettere, ma di cominciare subito a allenare con le giovanile per essere legato ancora a questi colori. Ecco, una società che in quel momento è ancora di Bonometti, Sagramola, Castagnini, ma dopo due mesi arriva Cellino. E tu cominci appunto a fare l'allenatore dei portieri, non della prima squadra, però del settore giovanile, anche se poi c'è stato qualche su e giù. Che anni sono stati questi da allenatore, con il Brescia fondamentalmente di Cellino, perché con Sagramola e Castagnini da preparatore dei portieri si è stato pochi mesi. Penso un mese, hanno fatto tempo a farmi smettere e poi se ne sono andati. No, a parte le battute, penso che cominciare nel settore giovanile, è un'esperienza che dovrebbero fare chiunque voglia fare questo ruolo, sia da partore dei portieri, sia da allenatore, perché ti permette anche di sbagliare qualcosina, ma di avere a che fare con i ragazzi, di avere a che fare con il futuro del nostro calcio e metterci anche un po' nei panni loro e cercare anche di dargli una mano non solo dal punto di vista tecnico, tattico, fisico, ma anche mentale. Mi è servito tanto, ho fatto metto tu un paio di uscite in prima squadra, prima con Pulgo, poi con Grosso, sono rimasto comunque in primavera tanti anni, con diversi senatori, da Pavese a Ragolazza e poi al Possa, per finire con Nicolini, ma penso di aver storato con tutti un ottimo rapporto e soprattutto la soddisfazione di aver avuto un ottimo rapporto con i ragazzi che quando anche adesso me ne sono andato, mi hanno scritto dei messaggi veramente importanti e di quello mi ha fatto piacere, voglio dire che ho lasciato qualcosa. Non ti sei mai chiesto perché non sei mai stato davvero preso in considerazione in questi sei anni per fare il preparatore dei portieri della prima squadra, una bandiera come te, un personaggio come te, Abrish? È una domanda forse che non devi fare a me, anzi sicuramente, io sono stato sempre a disposizione e anche da dire che davanti a me c'è un noto preparatore come Vitrani che ha fatto comunque sempre il suo lavoro molto bene. Io, ripeto, ero sempre a disposizione, ho cercato di dare il mio massimo sia che fossi in Serie A con Grosso sia che fossi con i ragazzi in primavera. Ecco, tranne la partenza, mi riferisco ovviamente alla prima squadra, tu comunque la vivevi insomma più o meno direttamente, sono stati anni pesanti questi a Brescia e continuano a non essere anni pesanti, sai che c'è tensione, c'è contestazione, c'è stata questa retrocessione pesantissima sul campo, adesso ci sarà quasi certamente la riammissione, però non c'è una bella aria a Brescia. Sì, non ho l'effetto di salame davanti agli occhi, si vede, si percepisce una tensione molto importante e questo fa male perché comunque è una piazza che merita maggior serenità, maggiori risultati migliori e la stessa squadra penso che non faccia fatica a esprimersi insomma quando le cose sono così complicate. Ecco, i giocatori sono esseri umani, anche loro sul posto di lavoro meglio stanno e meglio rendono, questa è la mia idea. Nell'intervista che ci aveva rilasciato Davide Possanzini, probabilmente hai visto un mesetto fa, un mese e mezzo fa, lui aveva detto che questa tensione purtroppo arriva da dentro, lui dice, poi dopo certo se le cose van male anche i tifosi iniziano a rumoreggiare, però l'entusiasmo comunque c'era, c'è stato e Davide Possanzini, che ha avuto quello che ha avuto, l'esperienza delle due partite e poi via, dice, io fondamentalmente a Cellino chiedevo solo un po' di serenità, la possibilità di confrontarsi, di non creare questa tensione che stiamo dicendo, proprio tutto nell'ambiente, ed è questo invece che continua ad esserci e che fa il male del Brescia, sei d'accordo anche tu? Sì, quello che ha vissuto Davide l'ho vissuto un po' di sponda, non l'ho vissuto realmente, però il rapporto che abbiamo tra me e lui è veramente quasi fraterno, quindi so cosa ha passato e so cosa avrebbe voluto fare per il Brescia. Ripeto, io la penso come lui, quando riesci a creare un ambiente sereno, bello, propositivo, è difficile che i risultati non arrivano, se hai la qualità dei giocatori e questo aiuta. L'ho vissuta da giocatore e adesso da allenatore, che sto cominciando a livello professionistico in Serie C, mi sembra la strada da percorrere, poi probabilmente non tutti sono d'accordo su questa linea. Ecco, ad esempio, però qui a Mantua avete trovato grande entusiasmo, perché è cambiata la proprietà o quantomeno piccoli, ha preso le azioni anche di Setti, siete arrivati anche voi, probabilmente personaggi come Possanzini, come te, insomma, sono già quasi 2000 abbonati qui a Mantua, per l'amichevole di sabato è atteso un buon pubblico per quelli che comunque sono ancora in città e l'entusiasmo poi a volte fa la differenza. Sì, siamo stupiti, perché fino a un mese fa non si prevedevano neanche la categoria in cui eravamo, si sperava in questa riammissione, però si sta percependo, come dici tu, un entusiasmo incredibile, sia in tutti gli ambienti, dai giocatori all'allenamento, all'ambiente esterno, stiamo vedendo che i numeri degli abbonamenti continuano a crescere e paradossalmente adesso dobbiamo cercare di tenerci un po' più con i piedi per terra, perché sappiamo da dove siamo venuti, cioè da una riammissione, da una ripartenza totalmente da zero e quindi fa bene l'entusiasmo, adesso noi dobbiamo cercare di alimentarlo attraverso le prestazioni, i risultati, perché a fin di conto abbiamo fatto per adesso solo tre amichevoli. Sabato affronterete un Brescia che non ha ancora fatto acquisti, se non va bene, Biarnasson che adesso è tornato a 35 anni farà un po' la chioccia, ci sono state alcune cessioni, i giocatori persi, è vero che il Brescia non ha ancora la certezza e la riammissione, però ormai il 99% sarà così, da osservatore, anche da tifoso, il quale sei rimasto del Brescia, non credi che sia il caso di cominciare a dare un'accelerata adesso sul mercato, perché poi dopo il campionato inizia anche per il Brescia? Sicuramente sì, non sarà il caso, staranno facendo le loro strategie e in questo momento probabilmente aspetteranno la riammissione della categoria, è veramente difficile in questo momento secondo me valutare la rosa del Brescia, perché come dici tu è in work in progress, si dice, penso che una grande certezza a quello che sto leggendo è la permanenza di Bisoli, che gli ho anche scritto qualche messaggio l'anno scorso, gli ho fatto i complimenti per come sta interpretando il ruolo di capitano di una squadra così e fa piacere che sia ancora lui a mantenere alto il nome del Brescia. Una cosa che ti chiedo invece cosa ne pensi come vedi a gestione dei due portieri, cioè l'anno scorso parte titolare Lezzerini, poi entra Andre Nacci, poi adesso deve giocare di nuovo Lezzerini, su quei ballottaggi, quel dentro fuori che per chi fa il tuo lavoro e il tuo ruolo non fanno benissimo. È un po' un complicato perché comunque è un ruolo particolare dove rispetto magari ad altri in una gerarchia c'è, c'è sicuramente. Dell'anno scorso so che comunque conosco molto bene Andre Nacci, meno Lezzerini, ma so che ha dato, anche quando è stato fuori, una grossa mano, è stato molto corretto e dal punto di vista umano loro ci mettono la mano sul fuoco. Ecco, penso che siano due ottimi professionisti e dopo la gestione vedremo cosa decideranno di fare con le gerarchie quest'anno. Però a livello personale ripeto, non gli posso imputare niente a livello personale. Dopo il punto di vista tecnico decideranno i mister cosa fare. Ottimissima cosa, tramite i lettori, gli ascoltatori, i telespettatori delle pagine di Bresciaingol.com cosa ti senti di dire, come ti senti salutare i tifosi del Brescia visto che ancora non l'hai fatto? Sì, volevo farlo sui social, volevo fare mille cose e poi ho pensato non sono uno abbastanza social, non sono uno che scrive, che fa, mi sembrava una ruffianata quella di scrivere qualcosa e poi non l'ho ancora metabolizzata bene. Oggi che è venuto Tognoli a romperti le scatole puoi farlo. Adesso che è venuto con Tognoli a rompermi le scatole è difficile dire quello che è stato Brescia per me in questi 17 anni ripeto a dirlo, che sono stati veramente tanti e è stato veramente la mia, la nazionale, il mio, non lo so, una squadra che mi ha che mi ha tra virgolette adottato e cui ho voluto sempre dare tutto e sono veramente legato da una forte emozione io sabato non so come farò a affrontarli perché non ci ho ancora pensato ma dovrò farlo. E magari un giorno tornerai, chi lo sa, il calcio è strano? Il calcio è strano, sì, non si può mai dire adesso devo ancora metabolizzare il fatto di essere me andato poi è un sogno magari di tornare con Davide perché mi lega veramente un rapporto splendido con lui e ho deciso di seguirlo qui a Mantua anche perché credo fortemente in quello che fa e nella persona che è.